Ma naturalmente la differenza, c'è sempre qualche differenza, naturalmente perché una donna è donna, l'uomo è l'uomo, ognuno ha i propri sentimenti in base alla natura della loro dimensione. Questo poi non lo so, non è facile né semplice, comunque una differenza ci sarà sempre, ci sarà sempre perché l'uomo è l'uomo e la donna è la donna, ognuno la pensa a modo, non è che la pensa a modo, è portato a pensare a modo suo perché sono nati per quello. La natura è quella, la natura è natura, dopo non lo so, dopo non saprei cos'altro immaginare.